In questa lezione vogliamo introdurre il concetto di derivata. Cominciamo con l'osservare che la derivata nasce dall'esigenza di voler calcolare l'equazione della retta tangente ad una funzione in un punto appartenente alla funzione. Pertanto possiamo dire che da un punto di vista geometrico, per derivata si intende il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di una funzione in un punto x0. Abbiamo già affrontato questo problema in geometria analitica quando cercavamo l'equazione della retta tangente ad una circonferenza, ad una parabola, ad un'ellissa, ad un'iperbole in un punto appartenente al grafico di queste coniche di rotazione. E in quel caso, per poter risolvere questo problema, mettevamo a sistema l'equazione, ad esempio, dell'ellisse, con l'equazione del fascio di retta passante per il punto P di coordinate x0, y0. Quindi con y meno y con 0 uguale ad m che moltiplica x meno x0. Ricavavamo la y dall'equazione del fascio di retta, lo andavamo a sostituire nell'equazione della conica e trovavamo in quell'occasione un'equazione di secondo grado. Affinché la retta fosse tangente imponevamo che il delta dell'equazione di secondo grado fosse uguale a 0. Questo voleva dire che le due soluzioni, i due punti in cui la retta intersecava l'equazione della nostra conica andavano a coincidere, fino a spostarsi in una posizione in cui la retta da secante diventava tangente. Che cosa c'è di nuovo adesso? Il problema adesso è che le funzioni che prendiamo in considerazione non sono più funzioni polinomiali, ma ad esempio io potrei considerare la funzione y uguale a x per e elevata ad x e quando vado a sostituire y uguale ad m che moltiplica x meno x con 0 più y con 0 al posto della y, quello che vado a trovare è un'equazione trascendente che non ha più un delta uguale a 0 e che pertanto non riesco più a determinare in maniera intuitiva qual è la condizione che devo imporre affinché questo sistema mi dia come risultato l'equazione di una retta tangente. Come procediamo allora? Supponiamo di avere una funzione continua il cui grafico ha un andamento di questo tipo. Tracciamo una retta secante la funzione ad esempio nel punto A e nel punto B, indichiamo con x0 il punto A di ordinata f di x0 e con x il punto B di ordinata f di x. Man mano che il punto x si avvicina al punto x0, l'equazione, cioè questa retta che al momento risulta secante la nostra curva nel punto A e nel punto B, diventa tale che il punto B si avvicina sempre di più fino a quando il punto A non va a coincidere con il punto B. Nel momento in cui A andrà a coincidere con il punto B, la mia retta che inizialmente era secante la retta, nel momento in cui la scissa del punto B va a coincidere con x0 e quindi con la scissa del punto A, la posizione della retta secante da secante diventa tangente. Allora cominciamo con l'osservare. Qual è il coefficiente angolare della retta B nella posizione in cui A e B sono due punti distinti, quindi in cui la retta è secante. Il coefficiente angolare non è altro che la differenza delle ordinate y di B meno y di A fratto la differenza delle ascisse x di B meno x di A. Pertanto questo coefficiente angolare M io lo posso scrivere come f di x, che sarebbe la y di B, meno f di x0, che è la y di A, fratto x meno x0. Questo coefficiente angolare, quindi questo rapporto f di x meno f di x0 fratto x meno x0, rappresenta il rapporto incrementale della funzione f di x nel punto x0. E questo rapporto incrementale non è altro che il coefficiente angolare della retta secante, la curva nel punto di ascissa x0 e nel punto di ascissa x. Allora io mi chiedo, se esiste finito il limite per x che tende ad x0 di questo rapporto incrementale, quindi f di x meno f di x0 fratto x meno x0, allora dirò che la mia funzione f di x è derivabile nel punto x0 e che questa derivata coincide esattamente con questo limite. Allora io sono partita dal dire che la derivata è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione in un punto x0, ho definito il rapporto incrementale come il coefficiente angolare della retta secante, la mia funzione nei punti di ascissa x ed x0, e poi ho detto che se esiste finito il limite per x che tende ad x0 di questo rapporto incrementale, siccome al tendere di x ad x0 la retta da secante tende a diventare tangente, allora questo rappresenterà il coefficiente angolare della retta tangente e quindi rappresenterà la mia derivata prima. Quindi possiamo dire che da un punto di vista algebrico per derivata si intende il limite, se esiste finito, mi raccomando, se esiste finito, del rapporto incrementale della funzione nel punto x0. Cosa succede se questo limite esiste ma è uguale ad infinito? Ad esempio se esiste finito il limite per x che tende ad x0 di f di x meno f di x0 fratto x meno x0, questo limite ad esempio fa più infinito. Che cosa vuol dire da un punto di vista grafico questo? Vuol dire che la mia funzione ha un grafico di questo tipo e quindi che la retta tangente al grafico della mia curva nel punto x0 è rappresentata da una retta verticale. Questa retta verticale che forma con l'astre delle x un angolo di 90 gradi è una retta del tipo x uguale ad x0 che non ammette coefficiente angolare e pertanto non esiste la derivata prima perché la derivata prima è il coefficiente angolare della retta tangente ma se questa retta tangente non ammette coefficiente angolare ovviamente non esiste la derivata prima ma esiste la retta tangente che abbiamo detto essere una retta verticale. può ovviamente succedere che non esiste finito il limite per x che tende ad x0 di f di x meno f di x0 fratto x meno x0 ma che esistono finiti sia il limite destro che tende ad x0 di f di x meno f di x0 fratto x meno x0 che è il limite per x che tende ad x0 da sinistra del rapporto incrementale quindi di f di x meno f di x0 fratto x meno x0 cioè questa funzione f di x meno f di x0 fratto x meno x0 al barriere di x che rappresenta il mio rapporto incrementale non ammette in x che tende ad x0 il limite ma ammetto un limite destro finito e un limite sinistro finito quindi è come se questa funzione avesse un punto di discontinuità di prima specie dove esiste finito il limite destro ed esiste finito il limite sinistro allora in questo caso diremo che questo limite destro rappresenta la derivata prima destra della mia funzione nel punto x0 e che questo limite sinistro rappresenta la derivata prima sinistra della mia funzione nel punto di ascissa x0 questo graficamente che cosa vuol dire? vuol dire che la mia funzione pur essendo continua nel punto x0 il suo grafico in corrispondenza del punto x0 è come se avesse uno spigolo e che quindi per x che tende ad x0 da sinistra ammette una retta tangente per x che tende ad x0 da destra ammette una retta tangente distinta io inizialmente poco fa l'ho chiamato spigolo ma in realtà questo poi più avanti quando studieremo i punti di discontinuità della derivata prima potremmo dire che rappresenta un cosiddetto punto angoloso cioè un punto in cui la funzione esiste e continua ma la curva non è armoniosa ma a sinistra ammette una retta tangente e a destra ne ammette un'altra e che queste due rette insieme formano uno spigolo, un angolo ok? allora parliamo adesso di continuità e derivabilità noi possiamo dire che se abbiamo una funzione f di x definita in un punto x0 di accumulazione per la funzione se la funzione f di x è derivabile in x0 posso dire con certezza che la funzione f di x è continua in x0 questo teorema però vale solo in questo verso io posso dire che se la funzione è derivabile nel punto x0 è sicuramente continua non posso però dire il viceversa cioè la mia funzione potrebbe essere continua nel punto x0 ma non derivabile un esempio è il caso che abbiamo visto prima in cui la funzione era continua nel punto x0 ammette una derivata destra finita una derivata sinistra finita ma che queste due derivate destra e sinistra sono diverse fra di loro e pertanto non posso dire che esiste finito il limite del rapporto incrementale in quanto per esistere finito il limite destro e il limite sinistro devono venire uguali fra di loro e quindi pur essendo continua la funzione non è derivabile dimostriamo questo teorema per dimostrare questo teorema osserviamo che dobbiamo calcolare il limite per x che tende ad x0 di f di x e fare vedere che questo limite deve venire esattamente a f di x0 visto che abbiamo detto che la funzione del punto x0 esiste e quindi che cosa faccio? calcolo, osservo, che posso scrivere la funzione f di x in questo modo come f di x meno f di x0 fratto x meno x0 per x meno x0 più f di x0 è vero questo? sì, perché se io semplifico questo con questo questa frazione si riduce ad f di x meno f di x0 f di x0 si semplifica con questo e quindi questo è esattamente uguale ad f di x allora il limite per x che tende ad x0 di f di x è uguale al limite per x che tende ad x0 di tutto questo scritto da qui quindi di f di x meno f di x0 fratto x meno x0 per x meno x con 0 più f di x0 ma quanto fa questo limite? poiché la funzione per ipotesi è derivabile in x0 essendo questo il rapporto incrementale il limite per x che tende ad x0 del rapporto incrementale tende alla derivata prima della funzione nel punto x0 per x che tende ad x0 x meno x0 tende a 0 e quindi f primo di x0 per 0 tutta questa quantità qui tende a 0 più f di x0 ho trovato che questo limite fa f di x0 e quindi ho dimostrato che se la funzione è continua nel punto x0 allora f di x cioè che se la funzione è derivabile nel punto x0 allora la funzione è anche continua nel punto x0 ma abbiamo sottolineato precedentemente che se f è continua non è detto che debba essere necessariamente derivabile grazie a tutti